Oggi è sabato 22 marzo 2014, siamo con il sindaco di Fara San Martino, il signor Giuseppe Di Rocco. Cosa ci sarebbe da vedere qui oggi in piazza Municipio? Buonasera a tutti innanzitutto, grazie per il signore. Qui in piazza Municipio mi chiedi cosa c'è da vedere qui a Fara San Martino. C'è da vedere tantissimo, non solo quello che vediamo qui a Fara San Martino, ma oggi in particolare ospitiamo l'arrivo della Fiaccola della Pace che nell'ultima tappa di questa serata, ripartendo da Palena a stazione, giungerà qui a Fara San Martino entro fra pochi minuti. La Fiaccola della Pace è un'iniziativa che è partita così tanto per fare una sintesi storica, è stata ideata ed è partita nel 1987, da allora ha coinvolto oltre 10 milioni di persone, ha attraversato oltre 150 paesi del mondo, quindi è una manifestazione di carattere internazionale. Qualche sera fa il presidente del gruppo podistico La Sorgente di Fara San Martino, che è il gruppo podistico che negli ultimi anni in particolar modo è stato molto ben rilanciato e sostenuto, anche dal comune di Fara San Martino se vogliamo, ma prevalentemente da quelli che sono gli atleti e soprattutto da persone veramente attive. Ricordo Pietro Barbierato che è l'ex presidente ma è sempre attivo e partecipe, è Dino Cipollone, come dicevo che qualche sera fa in comune mi ha proposto, ma più che proposto mi ha comunicato perché la tappa era stata organizzata proprio all'ultimo momento e quindi mi ha comunicato con molto piacere che questa sera una delle tappe della Fiaccola della Pace, Fiaccola che fu consegnata a Giovanni Paolo II, questo lo voglio ricordare, la Fiaccola della Pace da Palena appunto giungerà a Fara San Martino. Mi dicevi cosa c'è da vedere qui a Fara? A Fara San Martino abbiamo risorse turistiche e ambientali estreme, veramente degne di pregio e che aspettano solo di essere visitate. Qui alle mie spalle vedete la Porta del Sole che è l'ingresso del Paese Vecchio, di quello che noi chiamiamo Terra Vecchia e quindi poi qui siamo in Piazza Municipio ma soprattutto il grande pregio ambientale, naturale e turistico ce lo danno le gole di San Martino che attraverso le quali poi si può giungere al monastero dei monaci benedettini dell'832 d.C. Come poco più a valle abbiamo le sorgenti del fiume verde, dalle quali sgorga acqua purissima che poi intubata raggiunge oltre 90 comuni della provincia di Chieti. Quindi dopo aver accolto la fiaccola della pace vi invitiamo comunque a visitare il nostro territorio. Mettere in collegamento persone dalle più diverse storie, sempre nel tema di oggi. Una cosa che ricordo ben volentieri che mi è accaduta la descrivo così. Praticamente ero a vedere la tv dove mandavano in onda un programma televisivo dove si cantava messa e vicino a me c'era un'altra persona e nel momento del segno di pace mi fa intendere che anche quella persona era il momento che ci scambiavamo anche noi il segno di pace e io nel mentre ho detto ma ci devi credere e questa persona mi fa io ci credo e poi mi dice guarda il signore senza il signore non va da nessuna parte. Sindaco cosa le induce a pensare questo? Bella riflessione, complimenti perché questa riflessione si cala perfettamente nella manifestazione, nella marcia, nella fiaccolata della pace che accogliamo qui a Fara San Martino. La fiaccola della pace dal mio punto di vista non deve solo essere una manifestazione pura e semplice o comunque non solo collegare secondo me il concetto della pace direttamente sempre collegato alla non guerra cioè la pace non è l'inverso della guerra, la pace è un concetto profondo che deve avvolgere tutti noi in ogni momento come hai detto poco fa scambiarsi il segno di pace e quindi offrire la propria pace a chi semplicemente sta accanto a noi in chiesa non significa non fare la guerra con la persona a cui stiamo vicini in chiesa per cui essere in pace prima di tutto con se stessi, poi essere in pace con ciascuno, ciascuna persona che ci circonda qualunque possa essere il motivo e qualunque dovesse essere il motivo per cui rinnovare questo gesto di pace per cui potrebbe venire spontaneo per pensare che il richiamo immediato di questa fiaccola della pace è il collegamento diretto anche a quelli che sono gli eventi recenti mi va subito la mente al pensare alla situazione russa per esempio in questo momento dove per assurdo, cioè veramente assurdo che nel 2014 ci si trovi ancora in un paese ritenuto civile o comunque integrato giusto accanto all'Europa dove ci si schiera ancora con dei carri armati per opporsi a gente che semplicemente vuole far valere i propri diritti e il proprio territorio. Quindi ripeto, la fiaccola della pace dal mio punto di vista non è solo il simbolo o comunque il richiamo alla pace e alla non guerra e la pace deve rappresentare questa fiaccola, la pace interiore per ciascuno di noi e la pace con ciascuno dei nostri fratelli che abbiamo accanto questo ce lo dimostrano i ragazzi che stanno arrivando in piazza Lo stesso ho raccolto una testimonianza prima di arrivare qui di un cittadino di Fara San Martino e dice che per lui è importante ricordare i caduti qui che sono segnalati proprio all'ingresso di Fara San Martino dove ci sono delle lapidi Sì, infatti qui alle nostre spalle accanto alla Porta del Sole di cui parlavo poco fa c'è una lapide che ricorda i caduti del primo conflitto mondiale Poi più a valle nella villa comunale ospitiamo altre lapidi, altre stele che ricordano i caduti della seconda guerra mondiale Più avanti abbiamo il percorso della pace dove sono installate le lapidi in ricordo dei caduti per la pace nel mondo Questo però, mi ripeto, sì è vero, dobbiamo ricordare chi è caduto per ridarci la pace e chi è caduto per salvare la patria questo sicuramente, ma ripeto, se vogliamo costruire la pace la dobbiamo costruire con ciascuno dei fratelli che abbiamo accanto Sono Costantino Cipollone, presidente del gruppo bodistico La Sorgente e volevo confermare questa manifestazione che c'è stata oggi una manifestazione abbastanza bella che abbiamo preso a volo con l'occasione che il passaggio della fiaccola della pace in questa zona abbiamo approfittato di farla venire a fare, fargli fare tappa a Fara San Martino Il gruppo bodistico La Sorgente è nato nel 1982 è un gruppo di, diciamo, 35 elementi c'è qualcuno che non corre però si dà da fare all'interno dell'associazione e nell'ambito dell'anno svolgiamo diverse attività dall'anno scorso abbiamo iniziato l'attività con l'atletica, la corsa per i ragazzini delle scuole elementari, scuole inferiori anche 1-2 anni e poi le manifestazioni che abbiamo noi che dobbiamo sempre ricordare la Scarpinata Farese che quest'anno cade il 17 agosto una delle manifestazioni classiche del podismo abruzzese e poi stiamo prendendo un'altra strada che è quella dei paesi dintorni che ci chiamano per organizzare qualche manifestazione podistica dobbiamo dire che il podismo negli ultimi anni sta avendo un'evoluzione per quanto riguarda l'agonismo perché è uno sport che non divincola su certi punti quindi è uno sport che costa poco, non ha bisogno di attrezzature Secondo lei il podismo è l'unico modo per scambiarsi la fiaccola? È più semplice tra gli sport? No, non è l'unico modo però è uno dei pochi modi di socializzare e di fare queste rappresentazioni perché se andiamo a vedere è uno degli sport più tranquilli, più lenti insomma, se noi lo mettiamo su una bicicletta oppure su altri mezzi non riusciamo a fare questo qua quindi questo è stato un avvenimento veramente grande che abbiamo colto a volo e ne siamo veramente orgogliosi Con questo io chiudo ho detto in poche parole quelle che sono le attività del gruppo speriamo di avere altre occasioni e speriamo in futuro e speriamo di fare sempre qualcosa di più per questa nostra comunità che è una comunità abbastanza piccolina però bisogna dire che è una fonte di campioni L'anno scorso abbiamo avuto un campione regionale un campione di XN, di mezza maratona abbiamo avuto un campione di corsa in discesa praticamente abbiamo un ragazzino che darà filo da torcere nei prossimi anni Quando dice Speranza, cosa vorrebbe? Crede in qualcosa? Io a queste manifestazioni ci credo soprattutto quando c'è di mezzo il podismo perché fino a qualche tempo fa il podismo era uno sport abbastanza snobbato praticamente chi ti vedeva correre si creava dei problemi dicendo questo, questo, qua non ci sta insomma però da un po' d'anni il podismo sta diventando qualcosa di veramente diciamo così salutare di qualcosa che c'è un richiamo e noi ne siamo contenti quello che prevediamo speriamo di avere altre occasioni nell'ambito come questa qui perché quello che facciamo noi già è abbastanza però se riusciamo anche a coinvolgere altri paesi altre associazioni potremmo fare qualcosa di più per il paese mi sembra che è un'attività che ha preso piede non solo a Fala San Martino ma in tutta Europa sì sì infatti se noi andiamo a vedere le percentuali che ci stanno sulle maratone possiamo dire che la maratona di Roma è arrivata a 15.000 atleti la Roma Ostia quest'anno dove noi siamo stati ha raggiunto i 13.500 atleti praticamente il podismo nell'ambito mondiale sta prendendo veramente un piede grande noi la nostra associazione ha anche atleti dei paesi d'intorni come Civitella Lama Palena Piane d'Archi eccetera eccetera quindi ne siamo veramente orgogliosi soddisfatti ci fa piacere che ci vengano a cercare evidentemente stiamo lavorando bene con noi c'è Stefano Ceni Presidente Italiano di Peace Run oggi qui a Fala San Martino può appoggiare la fiaccola che è proprio il simbolo e il testimone si fa pace in quel momento? Innanzitutto ringraziamo veramente per la gente che ci ha accolto e la fiaccola è un testimone la nostra è una corsa che percorre 24.000 km intorno a tutta l'Europa ma sempre la nostra stessa corsa avviene in tutti i continenti questo è il ramo europeo ora la fiaccola è il testimone perché quello che noi facciamo non è solo correre ma è una staffetta quindi ci passiamo un testimone e la fiamma simboleggia il fuoco che ognuno ha a noi dentro lo spirito umano che è essenzialmente buono e noi crediamo profondamente in questo e crediamo che ognuno di noi ispirandosi in un l'altro e oggi giorno c'è tanto bisogno di ispirazione può fare il gruppo connettersi con gli altri e rendere il mondo migliore partendo da se stesso quello che noi diciamo è che bisogna partire da se stessi e dare il buon esempio e lo andiamo a dire non perché l'abbiamo inventato noi ma perché lo ricordiamo e noi riceviamo ispirazione continuamente dalla gente che incontriamo e cerchiamo anche di portare questo alle persone e di ricordargli questo ma quello che si fa in chiesa cioè il momento di pace sono due cose diverse oppure è un rafforzativo questo di oggi il nostro non è un evento religioso chiaramente ma credo che in qualche modo ci sia non una semiglianza ma lo spirito umano di cui noi parliamo lo facciamo da laici ma in realtà è sempre quello ma non oso di dargli un nome ma vedete quando uno è uno sportivo supera essenzialmente i propri limiti quindi impara a conoscere se stesso e sente dentro se stesso questa fiamma e quindi quella cosa lì io non so se è religiosa ma sicuramente quello che noi vogliamo dire parlando di pace è che la pace non è un'assenza di guerra ma è una presenza è qualcosa che tu costruisci dentro di te cos'è una casa o una comunità in cui c'è pace? è un posto in cui la gente è felice ed è in armonia e dà il proprio meglio questo è quello che noi ci che vorremmo dalla comunità in cui viviamo e ci sentiamo responsabili diciamo la gente che ognuno di noi è responsabile di creare il mondo in cui vuol vivere ho letto che proprio c'è la condivisione di esperienze lei ha girato fino adesso una parte dell'Italia cosa porta con sé? qual è il bagaglio? un'esperienza che ricordi? guarda la cosa che io ho girato l'Italia adesso ma non è la prima volta dal 1900 personalmente dal 97 che partecipa a questa corsa praticamente ogni anno e ho visto con questa corsa sono stato almeno 30 o 40 paesi diversi a parte l'Italia quello che io ho visto in Italia ma ovunque nel mondo è che ci sono persone meravigliose ovunque è che alla fine la maggior parte delle persone sono essenzialmente buone c'è solo una piccola parte che ci ruina la vita ma la gente è buona ovunque e l'assoluta maggioranza della gente è positiva assolutamente e bisogna ricordarlo alla gente oggi c'è un grande bisogno d'esempio quindi l'esperienza più bella che mi ricordo è che ci sono persone meravigliose ovunque quando si fa questo tipo di attività c'è la domanda cioè la gente chiede pace oppure la pace bisogna diffondere la pace è una cosa che ognuno di noi costruisce con i propri atti il mondo è uno specchio come io agisco il mondo mi risponde se io noi spesso parliamo ai bambini no? gli diciamo come fai ad avere amici? e loro mi dicono devi essere gentile allora quello è il punto se tu vuoi qualche cosa devi prima tu lavorare per dare questo qualcosa tu stesso incarnarlo quindi sei responsabile di creare il mondo in cui vuoi vivere questo è fondamentale la pace la costruisci in qualche modo ed è un qualcosa che dipende da come tu vivi la tua vita pace è un concetto vago normalmente ma quando non ne parliamo ne parliamo di un qualcosa di molto concreto qui nelle nostre vite quando parliamo di cambiare il mondo parliamo di non cambiare il mondo nessuno vive nel mondo quello vasto ognuno vive nella propria comunità e lì puoi cambiare le cose e lì puoi rendere la tua comunità migliore una cosa ancora ufficiale ancora un ultimo momento ufficiale il fondatore della nostra corsa che si chiama ha scritto un inno della nostra corsa che noi cantiamo per ringraziare chi ci riceve ora c'è solo che voi da tenere in mente che noi siamo corridori più che cantanti quindi perdonateci e mentre cantiamo il canto vi vorremmo invitare tutti quanti a passarvi la fiaccola e a tenerla almeno un istante ognuno di voi per l'altro per l'altro prego Peace run, peace run, peace run, peace run Sisters and brothers, our peace torch flame Sisters and brothers, our peace torch flame Shall feed the globe, harmony, gain Shall feed the globe, harmony, gain Peace run, peace run, peace run, peace run Peace run, peace run, peace run, peace run Peace run, peace run, peace run, peace run Isra, 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 Isra